Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera al rendiconto generale dell'amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2014. Il servizio. Il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2014 è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con 13 voti favorevoli da Partito Democratico, Socialisti, Umbria più uguale e 8 no. La lista Ricci Presidente e Forza Italia, Fratelli d'Italia, legano al De Movimento 5 Stelle. Il rendiconto generale della Regione per l'anno 2014 mostra la solidità del bilancio del nostro ente, la capacità che ha dimostrato nel governo del Fondo Sanitario, una Regione che non è mai andata nei piani di rientro, quindi sempre in equilibrio. Non abbiamo mai utilizzato anticipazioni di cassa. Abbiamo una comunità regionale nella quale i cittadini sono particolarmente virtuosi anche nel pagamento delle tasse di competenza regionale e questo dà garanzia delle entrate. Al tempo stesso dobbiamo mettere in atto tutte le azioni che servono per le politiche di sviluppo. Per tenere una tassazione bassa abbiamo bisogno di efficientare ancora di più la macchina regionale, di fare ulteriori riforme sulle società partecipate per cofinanziare programmi europei e aiutare imprese e cittadini. Il relatore di maggioranza Andrea Smacchi del Partito Democratico ha messo in evidenza la positività delle scelte operate dalla Regione e gli obiettivi che sono stati perseguiti, tra cui bilancio in equilibrio, invarianza fiscale, rispetto del tetto di indebitamento, mantenimento della qualità dei servizi, riorganizzazione e riduzione della spesa. Il rendiconto 2014 sancisce di fatto la fine della nuova legislatura dal punto di vista contabile, economico e finanziario. In questo rendiconto siamo riusciti a superare una crisi importante che ha caratterizzato la Regione Umbria negli ultimi 5 anni, ma allo stesso tempo, lasciando invariato la pressione piscale, siamo riusciti a mantenere inalterati i servizi e in alcuni casi anche ad aumentare la possibilità per la Regione di dare risposte concrete in tempi certi ai nostri cittadini. I rappresentanti delle opposizioni, Maria Grazia Carbonari per il Movimento 5 Stelle e Claudio Ricci per la coalizione centrodestra e liste civiche, hanno invece rimarcato tutte le critiche e i punti non convincenti del documento, in particolare per quanto riguarda la trasparenza dei dati contenuti, le osservazioni avanzate dalla Corte dei Conti, il ricorso al debito e ai derivati, i fondi per consulenze e rappresentanza, gli immobili e il patrimonio regionale. Il centrodestra e i liste civiche hanno espresso voto negativo al rendiconto finanziario dell'esercizio 2014, auspicando innanzitutto una riduzione delle spese correnti affinché ci siano più risorse da investire in sviluppo e riduzione delle tasse. Inoltre è ormai necessario riordinare le società partecipate della regione per migliorarne l'efficienza. Come ultimo parametro abbiamo anche chiesto degli indicatori che misurino l'efficacia dei fondi strutturali impiegati nei progetti regionali. Quest'oggi si è tenuta la seduta di approvazione del rendiconto dell'anno 2014. Il Movimento 5 Stelle ha votato no, ha votato no poiché ha ritenuto che i documenti che l'amministrazione ha messo a disposizione non sono sufficienti per avere una contezza di quello che è effettivamente la situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'ente. L'assessore regionale Chianella in seconda commissione per illustrare il piano regionale dei trasporti 2014-2024. Marco Paganini Si è svolta in seconda commissione l'audizione con l'assessore regionale Giuseppe Chianella in merito alla rete dei trasporti stradali e ferroviari e alle infrastrutture strategiche per l'Umbria. Durante la seduta i consiglieri hanno concentrato i propri interventi sull'Agenzia regionale dei trasporti, la ex FCU, la ferrovia Terni Perugia, la stazione media Etruria e poi le strade E45 e E78, il nodo di Perugia, l'aeroporto San Francesco di Assisi, le dighe di Valfabbrica e Montedoglio, la mitigazione del rischio idrogeologico, il minimetro e la galleria della Guinza. Numerose sono state le sollecitazioni dei consiglieri regionali presenti che hanno alimentato un dibattito che si è protratto a lungo, toccando gran parte dei temi principali relativi alla viabilità e alle politiche infrastrutturali regionali. Sulla questione trasporti la Commissione tornerà a dibattere più specificatamente nella prossima seduta, quando all'ordine del giorno ci sarà l'illustrazione da parte di tecnici e assessore del piano regionale predisposto dalla Giunta. Audizione in seconda commissione delle rappresentanze sindacali della Perugina, preoccupati per il mantenimento dei livelli occupazionali. Il servizio Quella della Nestlé perugina è una vicenda che non deve interessare soltanto Perugia e l'Umbria, ma l'intera economia nazionale. La politica regionale deve impegnarsi fortemente affinché possa essere anticipata la prevista convocazione di un tavolo da parte del Ministero per lo sviluppo economico. Il contratto di solidarietà, sottoscritto lo scorso anno, avrà termine ad agosto 2016 e conoscendo i tempi di una multinazionale non possiamo perdere nemmeno un giorno. Si tratta di una vicenda sui generis, in quanto gli stessi lavoratori hanno voluto approntare un piano industriale, ma il perdurare del silenzio della proprietà d'esta grandissima preoccupazione. E' quanto emerso in seconda commissione, presiduta da Giuseppe Biancarelli, nel corso di una audizione con le rappresentanze sindacali in merito alle problematiche dello stabilimento Nestlé Perugina di San Sisto. Al termine della riunione, dopo l'illustrazione dettagliata della situazione da parte dei sindacalisti, Michele Greco, Fai CGL, Dario Bruschi e Massimiliano Binacci, Fai CISL, Daniele Marcaccioli, Willa Will, seguita da numerosi interventi da parte dei membri della commissione e da altri consiglieri regionali presenti alla riunione, il presidente Biancarelli ha raccolto varie proposte e convenuto di trasmettere una informativa alla presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, e quindi all'ufficio di presidenza, per comunicare l'avvenuta audizione, alla quale faranno seguito altri incontri, a cui verranno invitati la giunta regionale e la proprietà dell'azienda. Prima l'Umbria era capace di spendere il 100% dei fondi comunitari, ora non è più così. Il piano di rafforzamento amministrativo prevede l'assunzione di 94 persone per migliorare la spesa. È stato autorizzato da Bruxelles proprio per le crescenti difficoltà delle procedure. Lo ha detto l'assessore Antonio Bartolini in prima commissione, dove ha ricordato che il bando non è una procedura di stabilizzazione dei precari. Ampio il dibattito tra i commissari. I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Liberati e Carbonari, hanno interrogato, in seconda commissione, l'assessore regionale all'ambiente Cecchini sulla posizione della regione in merito all'inquinamento della conca ternana. La regione Umbria è assente ai tavoli interistituzionali su Thyssenkrupp e inceneritori, nonostante si registrino numerose e gravissime criticità ambientali e sanitarie nel Ternano, con una pesante contaminazione di aria, suoli, acque e alimenti, certificata da ARPA e ASL. Questo è il punto focale di un'interrogazione urgente con risposta in commissione che il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati, ha rivolto all'assessore Cecchini. Le conferenze dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, ha risposto l'assessore, prevedono che spetti alla regione il coordinamento con il procedimento di valutazione impatto ambientale. Ed è con questo atto che si ha la piena partecipazione regionale ai procedimenti in questione e la non essenzialità della presenza in sede di conferenza dei servizi. Liberati si è dichiarato insoddisfatto della risposta ricevuta perché l'assenza della massima istituzione ha sicuramente agevolato, sottolinea, la svendita e il saccheggio dei beni comuni a vantaggio delle multinazionali di turno. Allora la nuova autorizzazione integrata non sia concessa, aggiunge Liberati, poiché non vengono garantiti gli standard ambientali, come certificato dalla presenza di nickel e cromo e contaminazioni da PCD, queste ultime certamente riconducibili all'incenerimento. L'assessore regionale Bartolini ha parlato in prima commissione del problema legato alla personale della Polizia Provinciale. David Mariotti Bianchi Audizione in prima commissione dell'assessore alle riforme Antonio Bartolini sul riordino delle province con particolare attenzione al problema legato al personale della Polizia Provinciale. Per Bartolini la situazione è molto complessa e in evoluzione, ma contiamo di trasferire in regione 180 lavoratori delle province con un costo di 6 milioni e mezzo di euro. L'obiettivo è continuare a dare un livello di servizi soddisfacente. L'Umbria, ha ricordato Bartolini, è la regione italiana con il più alto rapporto popolazione e personale della Polizia Provinciale. Spero che entro il 2016 riusciremo a riassorbire questo personale. Una soluzione potrebbe essere quella di dare risorse alle province per fare la vigilanza e controllo sulle funzioni che ora stiamo riassorbendo. L'opposizione con Valerio Mancini, Lega Nord, ha proposto di prendere esempio da altre regioni che hanno già regolato la Polizia Provinciale, però ha detto dobbiamo capire che la vigilanza si può fare solo se si è armati. Claudio Ricci, ricci presidente, ha sottolineato che il problema della Polizia Provinciale coinvolge circa 130 persone, un numero rilevante. Tra i vari interventi, ha ricordato quello della Toscana, è il più interessante perché riutilizza il personale su tematiche strettamente di controllo ambientale. Presentata in seconda commissione la proposta di legge del consigliere regionale Ricci sul marketing turistico, Marco Paganini. Ampliare le reti commerciali per fare in modo che la promozione turistica dei comuni umbri risulti davvero efficace. E' questo l'obiettivo della proposta di legge presentata in seconda commissione dal consigliere regionale Claudio Ricci, del gruppo consigliare Ricci presidente. Il testo normativo fa riferimento a reti tematiche, italiane e internazionali, che promuovono con i propri canali i siti di qualità culturale e ambientale attraverso la certificazione di specifici valori o elementi, tra questi la rete dei siti UNESCO, delle bandiere arancioni del Touring Club, i borghi più belli d'Italia e i luoghi gioiello d'Italia. Secondo l'esponente dell'opposizione, tutto ciò richiederebbe stanziamenti variabili in base alle disponibilità di bilancio e alle esigenze dei singoli anni. Potrebbe dunque trattarsi di sostenere semplicemente i comuni nelle procedure di candidatura, oppure di promuovere con apposite campagne i diversi comuni che rientrano in specifiche reti tematiche. In prima commissione consigliare, l'assessore alle riforme Antonio Bartolini ha tracciato il quadro del programma di riqualificazione della macchina organizzativa regionale. David Mariotti Bianchi Semplificazione, digitalizzazione e riorganizzazione Sono questi i tre assi su cui si muoverà l'azione amministrativa dell'assessore regionale alle riforme Antonio Bartolini. Lo ha spiegato l'assessore nella riunione della prima commissione presieduta da Andrea Smacchi nella quale ha tracciato il quadro del suo programma. Bartolini ha annunciato che entro fine anno verrà approvato il nuovo piano triennale di semplificazione. Un piano, ha detto, che non avrà un approccio burocratico e che prevede la partecipazione degli stakeholder che devono denunciare i problemi e le inefficienze della pubblica amministrazione che vivono quotidianamente. Al cittadino deve essere data la capacità di intervenire durante l'applicazione del programma, altrimenti il rischio è che la burocrazia lo insabbi. Dobbiamo ribaltare la logica della semplificazione. Per Bartolini alla semplificazione va unito a un processo di digitalizzazione completo, un obiettivo ambizioso che ha numerosi problemi come il digital divide che rischia di penalizzare alcuni territori che rimangono scoperti e la necessaria formazione per il personale della pubblica amministrazione. Terzo asse della nostra azione, ha spiegato ancora Bartolini, sarà la riorganizzazione amministrativa con un ridimensionamento della dirigenza, un'inversione del rapporto posizioni organizzative e personale e il riaccopamento dei servizi. Una riorganizzazione dei servizi pensata sulla digitalizzazione che verrà fatta a blocchi, partendo dalle funzioni delegate alle province che riassorbiremo con la relativa gestione del personale provinciale coinvolto. L'opposizione con Claudio Ricci ha ricordato che per rendere effettiva la semplificazione serve più attenzione alla formazione di tutta la filiera che la deve applicare dai politici ai dirigenti fino al personale. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti.